La parrocchia di Sant'Ernesto Le manifestazioni previste per ricordare i 50 anni della parrocchia. Si sono svolte tante iniziative. Parliamo questa sera con un testimone di questi anni e soprattutto degli inizi dell'attività della parrocchia, la signora Battiato, la quale è abitante di questa parrocchia da oltre 50 anni. Le chiediamo innanzitutto una valutazione, un giudizio. Che cosa gliene è perso, signora, di questa circostanza, di quello che è stato fatto in questi mesi per ricordare l'inizio della vita della parrocchia? Per quello che ne penso io è stato molto bello, anche perché sono venute fuori tanti di quei ricordi che mi hanno commosso, non solo io, ma anche tutte le altre persone che sono vissute a quei tempi. È stato un momento di commozione forte. E che cosa ricorda allora in particolare degli inizi? Quando è che lei è venuta ad abitare con la sua famiglia qui in questa parrocchia e che cosa c'era? Noi siamo venute ad abitare nel 59 e non c'era niente, nemmeno la strada c'era. Completamente terreno coltivato, ma comunque sapevamo tutto quello che doveva sorgere qui. Quindi abbiamo comprato la casa con il cuore aperto a tutte le novità che dovevano avvenire. Infatti poi, per prima cosa, è nata la parrocchia. La parrocchia che sembrava un colosso, allora il campanile alto alto, sembrava bellissimo, gli adornava tutto il circondario. Poi subito dopo però sono nate, nascevano come funghi tutti i palazzi intorno. In un modo, in brevissime anni, si è popolata la zona. La parrocchia è stata inaugurata nel 63. Nel 63, sì. Ma dal 59 al 63, da quando voi siete arrivati, come si svolgeva la vita nella comunità parrocchiale? C'era un altro complesso, c'era un'altra struttura? Dal 62 è incominciata la vita della parrocchia nel salone decente, quindi già si è incominciata un po' di comunità, però non c'era unione, tanto unione non ci poteva essere. Poi invece nel 63, con l'inaugurazione che c'è stata, la chiesa aperta, quindi tutti si andavano in parrocchia e quindi sono nate poi anche le amicizie e è nata la nuova famiglia parrocchiale. Lei ricorda qualche cosa del giorno dell'inaugurazione? Qualche circostanza particolare? No, circostanza particolare no. Quello che mi ricordo veramente era la grande confusione. Poi avevo i bambini piccoli, quindi dovevo badare a loro. Particolarmente non ricordo niente, ricordo questa grande confusione anche di gente e basta. Proprio anche perché, ripeto, dovevo badare ai piccoli. Lei invece ricorderà di Monsignor Pizza, un grandissimo ricordo di Monsignor Pizza. All'inizio, come si mosse Monsignor Pizza? Quali erano le cose più importanti che ritenne opportuno di fare? Le cose più importanti che ha ritenuto di fare è stata la catechese per i bambini e in seguito poi l'adorazione per il Santissimo che ci teneva tanto e l'opera vocazione sacerdotale. Infatti diceva sempre che erano i due palastri della Chiesa e lo diceva pure il Cardinale Ruffine con una frase particolare che ricordo che diceva che era la più bella opera, l'opera vocazione sacerdotale, era la più bella opera e appunto perché era la più bella, era la più tentata dal demone, la più combattuta. E parliamo dei bambini, che cosa si faceva per i bambini? Il catechismo, dopo scuola, attività ricreative? No, del principio c'era solo il catechismo che siccome non c'erano tanti elementi adatti a fare catechismo, poi il parroca ha chiesto aiuto alle sore francescane del vicino convento e sono state più di un decennio a fare catechismo, e faceva una parte della nostra comunità perché tutti poi ci siamo affezionati a queste sore ed eravamo, anche loro facevano parte della famiglia parrocchiale. E che tipi di ragazzi c'erano? Qual era la realtà economica della zona, del quartiere? Cioè venivano da famiglie disagiate oppure c'erano già le famiglie che abitavano nei palazzi? Di principio erano tutta, diciamo, gente mediocre, ma in pochissimi anni sorgendo tutti i palazzi e tutti intorno il cito è cambiato poi c'era un altro elemento a cui si doveva parlare diversamente, ovviamente. E quindi anche l'attività parrocchiale ha cominciato a tener conto che il quartiere stava cambiando e che c'era un'altra situazione? Sì, 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 in questo senso è tutto, sì. E invece per tornare all'altro aspetto, all'altro pilastro, ricorda qualche iniziativa particolare che Monsignore mise in piedi per sostenere le vocazioni o comunque tutta l'attività della parrocchia? Lui era molto attento a tutte le associazioni che sorgevano in parrocchia e, ripeto, in particolare proprio teneva l'opera vocazione sacerdotale. In particolare, infatti, poi alla morte della mamma ha fatto una borsa di studio intitolata a mamma Lucia che la parrocchia ha collaborato con amore però perché sapeva che questa queste soldi andavano per il seminario che andavano ad aiutare loro quindi anche la parrocchia amava i seminaristi e collaboravano tutti anche economicamente. E invece dal punto di vista umano Monsignore che tipo era? Un tipo molto ritroso o amava i rapporti e stava con piacere con la gente o era chiuso nel suo mondo? Il parroco era molto paterno e stava molto insieme a noi pregava con noi ci teneva sempre questa riunione per vivere la vita dell'associazione assieme poi eravamo tutte unite c'era gruppe e gruppe eravamo tutte unite infatti se c'era un'iniziativa non è che lavorava solo chi aveva fatto l'iniziativa c'era la collaborazione dell'azione cattolica delle lampade viventi dei rosarianti c'era la collaborazione di tutti ricordo in particolare una volta l'opera vocazione sacerdotale per esempio ha fatto una cena per gli anziani della parrocchia non per i poveri c'è la parrenzisi per gli anziani della parrocchia tutti hanno aiutato a fare questa opera perché chi ha pensato a comprare la carne chi ha pensato a cucinare la pasta perché voi gli iscritti perché se dovevano iscrivere pagare una piccola quota perché non c'era opera caritativa era per stare insieme gli anziani della parrocchia infatti siamo stati tutti i giorni con questi anziani felici di aver passato una giornata diversa diversa ma è collaborata da tutti i gruppi non è che siamo state noi sole opere vocazione sacerdotale che ha portato le tovaghe che ha pensato per il pane che apparecchiava una collaborazione bellissima è stata una giornata bella sia per gli anziani e sia anche per noi perché è riuscita quella giornata e volevano che si ripetesse per lo meno ogni sei mesi ma come si faceva c'era troppo lavoro e parliamo un attimo invece del cardinale ruffini che ricordo a lei qual era il rapporto tra il cardinale e la parrocchia veniva spesso il cardinale veniva spesso ma anche noi ci andavamo spesso perché le festività natalizie pasquale per esempio tutti i gruppi accompagnati dal parroco si andava a farci gli auguri e abbiamo anche le fotografie la prima volta ricordo che eravamo assieme agli uomini cattolici e donne cattolici perché a quel tempo erano tutte separate e ci ha fatto girare tutti i locali della dioce e particolarmente dove abitava lui nella cappella dove pregava è stato bellissimo anche perché per noi è stata una cosa meravigliosa non avevamo mai visitato la diocese specialmente i locali più intimi del cardinale quindi abbiamo un bellissimo ricordo almeno quegli antichi del cardinale ruffini poi quello che c'è stato più vicino è stato il cardinale Pappalardo quello è stato più vicino perché gli altri cardinale si venivano però si erano invitati perché si invitavano per esempio quando c'era il tesseramento dell'azione cattolica o qualche per le cresime per queste occasioni però il cardinale Pappalardo ci veniva a trovare era come essere che solo la sua campacasa ho tanti ricordi che invece noi lavoravamo nell'attività della parrocchia non vedevamo spuntare ed era bello perché c'era questa affettuosità si vedeva questa affettuosità del cardinale Pappalardo ricordo pure che veniva Monsignor Cirincione che era vescova ausiliare allora e veniva pure spesso a vederci torniamo un attimo a Monsignore e quindi sempre gli anni iniziali oltre alla vita che si svolgeva in parrocchia c'era la possibilità di fare altre iniziative non so c'era l'abitudine di fare gite di andare in qualche altro luogo cioè la vita era tutta in parrocchia o era anche fuori no 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 intanto l'azione cattolica allora io parlo dell'ora perché ora non è più così come inizio dell'anno liturgico parrocchiale all'inizio dell'azione cattolica c'era un pellegrinaggio pellegrinaggio gita sia per l'apertura dell'azione cattolica e sia per la chiusura perciò c'erano questi pellegrinaggi gita sia a ottobre che a maggio per la chiusura era una giornata pure meravigliosa perché non era solo l'azione cattolica era la parrocchia che si muoveva e certe volte anche con due pullman perciò parlo io di più di un centinaio di persone va bene e sempre accompagnata dal parroco sempre il parroco non mancava mai con noi e quindi andando nei vari santuari della provincia e anche fuori provincia si andava a Tinder di certe volte in tanti anni alzero occhi sia in famiglia che fuori ripeto era una giornata meravigliosa distensiva e spirituale piena di grazia che ci dico io del nostro Signore e quindi quegli anni come hanno aiutato a costruire la comunità parrocchiale la coscienza di appartenere a questa comunità cioè la gente si sentiva partecipa oppure veniva perché doveva venire perché bisognava andare a messa la domenica cioè era diverso da come ora io so di quei tempi che tutte le iniziative che c'erano di preghiera la chiesa la chiesa si riempiva tutta quindi se la chiesa si riempiva c'era partecipazione parrocchiale poniamo la prima domenica d'ottobre ma la prima domenica d'ottobre era la domenica quindi la chiesa era zeppa anche per la messa ma l'otto maggio la supplica per la madonna a mezzogiorno non c'era spazio in chiesa per la folla che veniva e il parroco stava attento proprio a aspettare mezzogiorno perché tanti uscivano dagli uffici regione anche a standa che allora c'era la standa ce n'erano tante di queste scappavano alle 12 meno 5 venivano partecipavano alla supplica e poi scappavano di nuovo al lavoro quindi questa è partecipazione questa è vita non è abitudine di andare a messa questo è senso veramente di fede verso la madonna e verso nostro signore ovviamente ricordo questo questo lo ricordo quindi possiamo dire che Monsignor Pizzo riuscì a intrattenere un rapporto molto cordiale con questi nuovi abitanti della parrocchia perché molti di questi che lavoravano negli assessorati venivano da fuori non erano palermitani venivano perché c'erano i nuovi edifici sì signor e con questi che tipo di rapporto aveva cioè venivano si facevano delle iniziative si facevano delle attività senta io posso perché io lavoravo più dal mio gruppo poi naturalmente avevo famiglia stavo a casa non potevo sapere tutto quello che si svolgeva in parrocchia va bene però sapevo che c'erano rapporti paterni perché era un padre per tutti per esempio al tempo degli esercizi il parroco andava nelle assessorate anche alla standa per fare gli esercizi cioè giorni di sera fuori andava nel locale ora questo è un amore verso i parrocchiani andate verso di loro per sensibilizzarle oggi questo non si fa più io non lo so ma mi pare che questo non lo so per esempio il parroco aveva l'abitudine di andare per le case dopo Pasqua per la Venezione si allora usava sempre e non mancava mai e questo era bello perché c'era un rapporto familiare poi perché conosceva le famiglie una per una conosceva le lacune conosceva tante altre cose che poteva sapere solo lui perché nasceva una cosa certo non erano tutte le famiglie che si aprivano ma la maggior parte si perché andava lui personalmente raramente mandava i cappellani perché allora ce n'era uno fisso e poi c'erano tanti altri sacerdoti che collaboravano anche per via di tutti i maggimoni che c'erano funerali maggimoni c'erano tantissime si facevano anche matrimoni in parrocchia in parrocchia ma diversissime si discuteva il sabato 3-4 e anche tutta la settimana poi c'erano e non c'era mese che che prima un tempo si diceva che a maggio non si sposava in agosto non si sposava piaceva e ricorda invece dei rapporti se c'erano in quel periodo con le altre parrocchie che man mano venivano su e si costruivano perché successivamente si è pure nelle altre parrocchie è nata Santa Luisa di Maregliacchi e poi è nata San Francesco di Salle il cortolengo già c'era il cortolengo già c'era perché ricordo che si andava a messa noi altri dove si trovava Terra Sanza mia Terra Sanza questa parrocchia Santa Teresa si c'erano perché nelle grandi occasioni si invitavano i parrocchi quindi c'era questa unione e collaborazione poi è nata di più la collaborazione che quando è venuto Pacebucaro che ha voluto fare un soldo ma quello quello è stato un altro periodo e invece sempre riferite a questi anni c'erano per esempio iniziative religiose ma pubbliche per esempio processioni Sant'Ernesto non è un santo che si porta in giro quindi per esempio come si festeggiava Sant'Ernesto? il giorno di Sant'Ernesto si festeggiava che c'erano festività in chiesa come oro sante messe solenne che si investavano i parrocchi nelle altre parrocchie ecco l'occasione questa era pure unione poi la vita pubblica c'era la via crucis per venerdì santo fuori la ricorda quando fu la prima volta in che anni fu ma all'inizio no non me lo ricordo anche ripeto perché io avendo famiglia non è che potevo sapere tutto quello che si svolgeva in parrocchia poi avevo questa responsabilità dell'opera e quindi i miei tempi erano anche ristretti perché cercavo di allargare infatti era molto vasta come scritte all'opera e ci voleva pure questo tempo poi c'era che mi volevano per il canto dell'Ave Maria per le magemonie quindi avevo pure che andavo per i magemoni per i funerali era una vita molto lavorata quindi io facendo il mio lavoro poi mi ritenavo e pensavo per la famiglia non è che e a proposito di famiglia un altro grande collaboratore del parroco e della parrocchia è stato suo marito cosa faceva suo marito in parrocchia e qual era il rapporto che aveva intanto era iscritto all'azione cattolica ed era contento di partecipare perché era un gruppo pure che poi con l'azione cattolica nascono amicizie quindi era un gruppo che si trovavano a loro agio tutti assieme e sempre però c'era nelle riunioni il parroco questo non le lasciava mai e poi il parroco come ho ripetuto nella relazione ha scelto quattro uomini di azione cattolica per questo servizio perché con il concilio ci sono state queste novità queste quattro facevano l'amministratore della parrocchia ma loro l'amministrazione della parrocchia non è che si faceva come ora era una vera amministrazione la cosa principale era raccogliere soldi questo per i matrimoni questo per il funerale questo per le lamosine queste cose poi pagavano il parroco i cappellani e poi non c'era spesa che non facevano che non veniva registrato che non veniva registrato e il lavoro del mio marito poi era pure quello che stava attento se mancava la manutenzione della parrocchia ricordo che ha fatto pure un elenco di tutto quello che c'era in parrocchia perché dice un domani che cambia il parroco ma questo fu fatto una volta e finìò e invece qual era l'attività sulla carità c'erano bisogni di carità c'era un'attenzione particolare siccome era una parrocchia ricca non c'erano problemi no questi i problemi ci sono stati sempre in parrocchia ripeto prima c'era sia la rampa delle vente sia opera vocazione sacerdotale sia azione cattolica si faceva la carità a quelle persone vicine della parrocchia ma poi siccome la cosa si è ingrandita è nata proprio il campo della carità e si sono presi il campo tutto loro assieme al parroco perché il parroco sapeva tutto quello che svolgevano loro noi facevamo aiutarle nel senso se c'era avevano un'iniziativa che so sorteggiare un quadro sorteggiare un bambinello e allora noi collaboravamo tutti per la vendita dei biglietti per collaborare con questa carità però per visitare le famiglie per aiutarle sia nella parrocchia sia fuori parrocchia anche erano loro lo sapevano loro non si sapeva a chi dove andavano lo sapeva solo il gruppo e il parroco noi non ne sapevamo niente quindi non c'era l'abitudine che c'è oggi di ricevere in parrocchia quelli che hanno di bisogno era la parrocchia che andava incontro ai bisogni oggi si svolge tutto diversamente e in quei tempi invece si andava direttamente a casa si 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 быть e che cosa ricorda invece della become della famiglia di bon signore lui non era solo in parrocchia prima aveva la mamma poi aveva le sorelle queste collaboravano e stavano in parrocchia aveva la famiglia papà mamma e due sorelle la mamma veniva per la funzione una sorella era invece in mezzo a noi era scritta all'azione cattolica era scritta all'opera vocazione partecipava a tutte le cose era in mezzo a noi era una sorella nostra diciamo non mancava mai nelle gite aveva il fratello pure quindi era più facile l'altra sorella invece era più riterata faceva la vita familiare la mamma ripeto partecipava e anche il papà però di più la mamma ricordiamo le faceva il mamma ricordo un'altra cosa quando si preparavano le olive per la domenica delle palme che abbiamo incominciato noi però con circa un centenaio poi si sono fatte migliaia di rametti per offrirle al popolo si stava tutto il giorno là per trovare le preparate e lei scendeva con la caffettiera con il caffè avete freddo prendetevi un po' di caffè questo era un senso di materno e di affetto e di rispetto io me la pigliavo così arriviamo alla fine di questa prima parte cosa ricorda invece della parte finale del ministero di Monsignore diciamo gli ultimi anni prima che poi è andato alla casa del padre che cosa accadde in parrocchia quando morì come fu presa la cosa ha sofferto molto la parrocchia della sua mancanza ha sofferto molto certo gli ultimissimi anni si andava allontanando per via della malattia non si freddava più a scendere le scale da sopra a scendere giù però cercava sempre di venire non ci ha abbandonato forse gli ultimi mesi poi non si è freddava più e non è sceso più ma è stato sempre con noi